Questa seconda semifinale sulla vostra destra a sinistra invece Margherita Colonna Ecco in questo caso devo dire ci sarà un match particolare come abbiamo detto la Colonna è la ragazza più giovane in questo caso Delle quattro semifinaliste e invece dall'altra parte una non diciamo veterana sempre giovane ma che da qualche anno Giovane esperta come ormai si può dire con un'etichetta che sembra un po' lo Simor Ma che soprattutto nella categoria under 23 suona bene E come dicevo classe 1999 vetrice dalla vecchia quindi Tre anni più grande Esperta schermisticamente possiamo dirla ma anagraficamente classe 99 Giovanissima però da alcuni anni già Jacco faceva delle scuole superiori Sicuramente sicuramente 11 anni Si parte a sinistra Margherita Colonna a destra Beatrice Dalla Vecchia la prima stoccata è della Torinese Riparte questa volta Beatrice Dalla Vecchia ma segno e pareggia i conti 1 a 1 Anche qui abbiamo visto come Beatrice è riuscita a mandare corto l'attacco dell'avversaria Parate risposta di Margherita Colonna che si porta sul 3 a 1 Ancora segno Ottimo inizio Luigi Ottimo inizio della colonna un po' meno quello di Beatrice Che devo dire sta affrettando un po' troppo i tempi a centro pedana Parte ancora la colonna in attacco va a segno allunga questo break iniziale Portandosi sul 6 a 1 L'attacco di Beatrice Dalla Vecchia questa volta va a segno 6 a 2 Finalmente un'azione lunga è costruita bene la parte di Beatrice Dalla Vecchia Che ammette a segno la seconda stoccata consecutiva Tutto l'essere sciabolatore dentro di Luigi Piracco che definisce azione lunga Un'azione di 2 secondi e 50 centesimi all'incirca Attacca Dalla Vecchia va a vuoto Dentro invece il contrattacco di Margherita Colonna che va alla pausa sull'8 a 3 Devo dire grande performance al momento della colonna Questa stoccata è stata stupenda Ha tirato un contrattacco sull'attacco dell'avversario Ed è riuscita a mettere a segno l'ottava stoccata che la porta sulla pausa Classe 2002 la sciabolatrice della schema Augusta Testa di serie numero 2 dopo la fase a Gironi Nella seconda parte di match vedremo Beatrice Dalla Vecchia seguita invece a fondo pedale In questo caso dal maestro Leonardo Caserta Vedremo se riuscirà a cambiare l'inerzia del match Che si qui ha detto bene molto bene alla porta colori della schema Augusta In questo caso mi aspetto veramente un cambio repentino della strategia di Beatrice Soprattutto secondo me è salita in pedale un po' nervosa Nelle prime stoccate è stata parecchio nervosa e affrettava i tempi schermistici Mentre nella seconda parte, nella prima parte, la colonna è riuscita a prendere bene l'iniziativa a centro pedale 8-3 si riparte così L'attacco è di Beatrice Dalla Vecchia va a segno 8-4 Questa secondo me è una soluzione importante che può portare avanti per il corso del match Beatrice alternandola con un attacco diretto come in questo caso Partita forte mettendo a segno due stoccate consecutive Beatrice Dalla Vecchia che va in parata risposta e lunga il break a 3 Sta facendo proprio, sta alternando una parata di misura ad un attacco diretto Adesso infatti l'attacco diretto L'attacco diretto in questo caso però è con la preparazione e quindi subisce l'attacco della colonna 9-6 il punteggio, riparte Beatrice Dalla Vecchia e va a segno 9-7 Come la definiamo Beatrice? Veneta, napoletana? È un bel connubio diciamo Si allena a Napoli con la società della CEMP che rimonta adesso Me lo aspettavo, è riuscita veramente bene ad entrare nel meccanismo dell'atleta giovane Con un po' più di esperienza è riuscita a portarsi avanti Allunga il break, passa a condurre per la prima volta 10-9 per Beatrice Dalla Vecchia Che va in attacco sulla preparazione della sua avversaria e mette a segno la stoccata numero 11 del suo match Citata a fondo pedale dal maestro Caserta Riparte la colonna e va a segno tornando a meno 1 Anche Beatrice l'ho vista prima, devo dire fisicamente è cresciuta tantissimo È vero che il Covid ci ha bloccato e non ci siamo visti per tanto tempo Però devo dire che fisicamente è un'atleta veramente preparata in questo momento Profitta di una sospensione dell'attacco di Margherita Colonna e Beatrice Dalla Vecchia Per riprendere l'azione e andare a segno con la stoccata numero 12-12-10 Il vantaggio per la porta colori delle fiamme rosse dei vigili del fuoco Adesso l'attacco no di Beatrice Dalla Vecchia, la ripresa di attacco della colonna che accorcia le distanze L'attacco diretto di Beatrice L'attacco di Beatrice Dalla Vecchia Punto numero 13 Dalla Vecchia in attacco, a segno 14-11 va al match point Attenzione, match che ha completamente cambiato volto nella seconda parte Attacco parato e risposta della colonna che si riporta a meno 2 Attacco di Beatrice Dalla Vecchia che chiude così i conti Prima di proclamare in qualche modo la vincitrice La vincitrice ci sarà da attendere la revisione al video della stoccata La facciamo vedere anche a Luigi Revisione che secondo me non porterà a nessun cambiamento Adesso rivediamola, mi sembra che l'attacco sia appunto confermato Confermata la ricostruzione, sul 15-12 si chiude questa seconda semifinale Che porta Beatrice Dalla Vecchia in finale a giocarsi il titolo italiano di sciapola femminile Contro Claudia Rutili Che brava possiamo dirlo Luigi a Margherita Colonna Grazie